E' un'eredità e una rendita. Andrà a finire che mi farai le scarpe. Io ti voglio bene. E poi tu sei figlio di Ceduno. E poi che tu no? Tre sono i nostri figli. L'eredità si divide in parti uguali tra loro. Abba! Me lo devi promettere. Quando torniamo a settembre ci riprendiamo Peppino con noi. Papi! Noi siamo i fratelli da Filippo. E non ci dobbiamo mai dividere. Guardate qua. Ha copiato anche l'illustrazione di D'Annunzio. Basta! Basta! Abbasso i contraffattori! Evviva Gabriele D'Annunzio! Evviva Gabriele D'Annunzio! Scarpetto! Si aspettava di essere rinviato a giudizio. La mia non è una contraffazione, è una parodiglia. Fanno causa a me, come se fossero delinquenti. E' stata l'imboscata. A forza mia, è un pubblico! Lo sace, non so nessuno. Ma so viva. Gloria ai nostri figli e a facci chi ci vuole male. Condannando me, condannate un'intera forma d'arte! Facciamo zitta, zitta. Per me tutti questi discuti sono vane. Non esistono teatri, più o meno d'arte. Esistono gli artisti. Lemosci. Lemosci. Grazie a tutti.